Si è risolto con un piccolo passo avanti in Belgio l'incontro tra il collettivo di sostegno agli afghani richiedenti asilo politico e il premier. Elio Di Rupo ha consentito che le domande vengano ripresentate promettendo che ogni caso sarà studiato scrupolosamente. Circa 250 afghani avevano organizzato una marcia di 70 km venerdì per chiedere di metter fine alle espulsioni.